L'ex presidente del Brasile, ossia Bolsonaro, ha sempre negato l'esistenza del Covid, no? E si è sempre, diciamo così, dimostrato un fervente sostenitore della teoria no-vax, cioè di coloro che dicono che i vaccini facciano male e addirittura siano dei verini. Eppure però, come in questione, stava semplicemente mentendo e sapeva di mentire a se stesso, ma non tutti sapevano che stava mentendo anche agli altri. Infatti, nella pandemia dissero di non aver fatto il vaccino anti-Covid di Giannale, esprimendo pieni dubbi sulla efficacia di quei vaccini. Eppure l'uomo in questione si è vaccinato e come? L'uomo ha ricevuto proprio il vaccino anti-Covid. Sono stati in media del Brasile ad informarci di questa situazione, facendoci sapere proprio che costui ha ricevuto proprio i vaccini senza si stessa e senza un po' di sorta, in barba a quelli che pensavano che i uomo in questione continuasse a dichiararsi no-vax. Effettivamente, a parole lo diceva, no? Io sono un po' oaxe, io odio, ripudio i vaccini, perché i vaccini sono dei veleni, non sono strumenti di aiuto, non sono strumenti utili, e in realtà l'uomo era stato vaccinato il cuore. Beh, non so se ne apprende due, tre, quattro, c'è, però comunque sta di fatto che, di fatto, di fatto, proprio Bolsonaro si è vaccinato il cuore. Beh, da narratore italiano, YouTube, dà il tutto, iscrivetevi, commentate. Ciao a tutti e una buona giornata. Ciao a tutti.